E ti ringrazio anche per il lavoro che stai svolgendo affiancando il tuo e il nostro Presidente, al quale mi riservo di fare l'ultimo saluto. E io non lo ringrazio, Roberto Chiudo, per la sua presenza, perché io ritengo che la presenza del Presidente della Regione sia una sorta di dovere, stando sui territori. E lui, siccome la presenza sul Regio è costante e coerente e tante volte, anzi spesso, è anche silente, io lo ringrazio per tutto quello che sta facendo per la nostra Calabria. Lo ringrazio perché in solo otto mesi ha cambiato regime, ha cambiato l'andamento di un'attività amministrativa che evidentemente non era abituata a governare la Calabria con questi ritmi. Roberto, grazie. Grazie perché otto mesi di risultati straordinari, ma soprattutto risultati che hanno dato segnali di discontinuità con un recente passato, che è quello di Oliverio del Partito Democratico, con i consiglieri regionali del Partito Democratico che si candidano e vengono ancora a Regio a chiedere i voti anche per le politiche. Risultati che potrei snocciolare uno per uno, ma non lo faccio per questioni di tempo, ma se pensassi soltanto al fatto che in solo i sette mesi appena insediati, solo alla provincia di Regio Calabria, sono state destinate tantissime risorse. E allora come non pensare ai 20 milioni della San Roberto Campo Calabro? Ne parlava il PD da oltre vent'anni. Come non pensare ai 20 milioni di euro del tracciato veloce Sant'Aga da Cardeto, che è appunto anche il PD, quante promesse elettorali hanno consumato per quelle infrastrutture? Come non pensare a quello che per noi rappresenta il santuario più importante? Io credo che sia il più importante della Calabria. Forse anche tra i santuari più importanti, pieni di significato, mi riferisco al santuario di Polsi, sempre individuato a Roma e non solo a Roma come il santuario dell'Andrangheta. Mentre per noi il santuario di Polsi deve essere l'emblema del riscatto della Spromonte, di Regio, della provincia e della Calabria. E per farlo rivitalizzare la giunta regionale, dopo aver preso l'impegno il Presidente Occhiuto stanziato per la prima volta nella storia del regionalismo calabrese, oltre 65 milioni di euro per avere un'accessibilità degna, diciamo idonia a quel santuario. E allora come non pensare al nostro borgo bellissimo di Gerace, dove con un colpo di penna il Presidente Occhiuto non ha esitato a destinarli alla provincia di Reggio Calabria, pensando ad uno dei borghi più belli del mondo, del mondo, che è Gerace, 20 milioni di euro a Gerace, per ridare vitalità, prospettiva, futuro, anche a quell'area della Locria che è sempre più dimenticata. E allora mi piace pensare, e saluto perché so che c'è qui una rappresentanza di una frazione importante del nostro territorio, il Comune di Merito Portosalvo, che da oltre tre anni sono rilegati a causa di una non agibilità della via principale d'accesso. Quando ho sottoposto il Presidente Occhiuto questo disagio sociale, culturale e anche infrastrutturale, perché i bambini rischiano la vita per andare a scuola da quella frazione, non ha esitato di portare in giunta per deliberare direttamente dalla giunta regionale 800 mila euro che serviranno a ridare dignità a quella frazione, perché la giunta regionale, che pensa anche solo ad una piccola frazione, è un segnale forte di cambiamento. Perché io credo che questi sono, caro Roberto, i segnali a cui facevo riferimento di discontinuità rispetto al passato. L'aggressione dei problemi, l'aggressione delle criticità, puntando ovviamente contestualmente a quelle che sono le valorizzazioni delle potenzialità che questa Calabria ha. E allora che dire, cari amici, stasera ovviamente non è una festa. Noi abbiamo scritto fare un brindisi, sì, lo faremo in sordina quando finiremo questo momento così di riflessione ad alta voce, ma noi non dobbiamo brindare a Cannizzaro che ha vinto le elezioni, piuttosto che a Forza Italia che stasera ha organizzato con tutti i suoi dirigenti questa manifestazione. Il brindisi simbolico è rivolto a Reggio, alla provincia e alla Calabria per dare un auspicio di riscatto di Reggio della Calabria. E se è vero come è vero che già anche a Roma si percepisce una sorta di cambio della Calabria, siamo considerati in maniera assolutamente diversa rispetto all'autorevolezza di chi in questo momento governa la Regione con a capo il Presidente, ma anche con una giunta funzionale, efficace, qualificata e da tanti consiglieri regionali che sul piano legislativo supportano l'azione del governo della Regione. Ecco quello che mancava alla Calabria e che per decenni evidentemente non ha avuto. Una sorta di sinergia, funzionalità, voglia di riscatto dall'Assemblea legislativa all'esecutivo ai sindaci. Persino i sindaci del Partito Democratico ci hanno votato non per Cannizzaro, per simpatia a Cannizzaro, ma per la credibilità che in solo otto mesi, nove mesi questa giunta regionale è riuscita ad avere e ad acquisire. Perché la politica tutta, di destra e di sinistra, ha perso la credibilità. E chi come me fa politica tutti i giorni, 20 ore al giorno, e la mia famiglia lo sa, e a proposito di famiglia la voglio salutare, non lo faccio mai, non lo faccio mai. La mia famiglia, grazie ai miei genitori, ai miei sorelle, ai miei ritori, a te e ai miei figli, che non mi hanno potuto votare, però mi hanno fatto la campagna elettorale. Sapete bene che questa è stata una campagna elettorale che è partita con i botti, partita con i botti, ma non ci hanno per nulla intimorito, non ci hanno per nulla scoraggiato. Anzi, l'energia, la forza, la passione, la voglia di riscatto dei miei collaboratori è diventata così contagiosa non solo alla mia persona, ma a tanti amici che grazie a Dio si sono aggregati a noi, credendo e dandoci fiducia per una sorta evidentemente di voglia di contribuire a una rinascita di reggio della nostra provincia e della nostra Calabria. Abbiamo deciso, insieme ai miei collaboratori, di fare una campagna elettorale abbastanza sobria, ma concreta, efficiente.